Se ho fatto un video su Queen non potevo non fare un video anche su Elton John. Ciao a tutti, io sono Nanny e bentornati in questo nuovissimo video che faccio in quasi corrispondenza dell'uscita al cinema di Rock and Man Biopic su Elton John. Quindi ho deciso, vabbè, faccio un video su Elton John. Elton John è l'opseudonimo di Reginald Kenneth Dwight nel 25 marzo 1947. E' uno dei maggiori artisti del rock, canto, autore, compositore e musicista. Ha infatti venduto 400 milioni di copie, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994, è un membro onorario della Royal Academy nel 1997 ed è il Cavaliere della Regina nel 1998. E' stato inserito poi alla 49' posizione nei 100 milioni di artisti da Rolling Stones nel 2004 e poi sempre da Rolling Stone nella 38' posizione delle 100 voci migliori. E poi alla terza posizione nella Hot of 100 della Billboard nel 2008. Tra le migliori canzoni ovviamente possiamo ricordare Your Song del 1970, Rock and Man del 1972, poi Candle in the Wind e Goodbye Yellow Bridgewood, entrambe del 1973. Due caratteristiche principali di Elton John sono le canzoni, o meglio la velocità in cui lui le scrive, ha infatti scritto più di 700 canzoni e il numero di concerti ne ha fatti circa 3500, e tra l'altro la maggior parte nei 50 stati degli Stati Uniti, battendo il proprio stesso record. Elton John poi si è anche cimentato nei musical, infatti nel 1997 realizza il musical del Re Leone, nel 1999 la rilettura di Aida, di Giuseppe Verdi, nel 2005 ha realizzato il musical di Billy Elliot, e nel 2006 The Vampire List, spero si pronunci così, non lo so. Comunque questo ultimo doveva essere il musical che doveva avere più successo, ma in realtà è stato quello che ha fallito di più rispetto agli altri, perché comunque Elton John ci ha volato per tanti anni, ma non ha funzionato. E ovviamente Rock'n'Man, uscito appunto pochi giorni fa, è il primo film dedicato alla vita di Elton John, quindi vi consiglio di andare a vedere questo film al cinema, per sapere un po' di più sulla vita di Elton John. Io ovviamente ci sono andata ed è meraviglioso, ovviamente come ho già detto nel video di Queen, non è possibile riassumere tutta la vita di un artista di grandi livelli in un film di due ore, insomma. Come appunto è successo con Boy Team Rhapsody, è veramente impossibile, anche perché sono sia Queen che Elton John degli artisti di grandissimi livelli, quindi è impossibile, quindi su questo punto di vista pecca un po', però ovviamente hanno fatto un grandissimo lavoro, io lo adoro, come ho adorato il film sui Queen, e mi ha fatto diciamo un po' rinascere questa passione per Elton John, che in realtà non sono stata mai una grandissima fan di Elton John, però comunque l'ho apprezzo molto come artista. Se volete sapere qualche curiosità in più su Elton John, magari ve la dico, ma sono magari curiosità che sapete già. Elton John è stato proprietario di una squadra di football, credo, che si chiama Watford, una cosa del genere, non sono molto convinta che si pronunci così, e non ho capito neanche niente di football, comunque va bene. E poi, questo ovviamente credo sia conosciuto già a questo fatto, ha una relazione con David Furnish, un'altra cosa che non so pronunciare, che è un regista con cui inizialmente si è unito civilmente nel 2005, e poi nove anni dopo, nel 2014, si sono sposati, e hanno due figli, nati dalla stessa madre surrogata, Zachary, nato il 25 dicembre del 2010, ed Elijah, nato l'11 gennaio del 2013. Bene, non so che cos'altro dire su questo film, su Elton John, soprattutto, tranne che consigliarvi di ascoltare i produttori sui cantoni, quelle che volete, tanto sono tutte molto belle, e guardate il film, se volete sapere qualche cosa in più sulla sua vita, io non voglio fare un video troppo lungo, quindi credo che basti così, anche perché se il film di due ore è stato ridottivo sulla sua vita, figuriamoci questo video. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate il like in tal caso, iscriviti al canale per non perdervi nessun altro video, lasciatemi nei commenti cosa pensate di Elton John, e delle sue canzoni che siano positive o negative le vostre opinioni. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!